Gentili telespettatori, buona giornata. Sky TG24 Utrend dell'11 dicembre 2023 sulle intenzioni di voto politiche nazionali. Fratelli d'Italia scende dello 0,3% al 28,9, la Lega cresce dello 0,1 al 9,9, Forza Italia perde lo 0,1 al 6,2, noi moderati perdono lo 0,1 all'1,8, centrodestra totale 47,2, scende dello 0,4, il PD guadagna lo 0,3 al 19,3, Verdi sinistra più 0,3 al 3,7, più Europa perde lo 0,3 al 2,2, totale centrosinistra 24,9, scende dello 0,3, Movimento 5 Stelle perde lo 0,3 al 13,5, azione guadagna lo 0,4 al 4,1, Italia Viva cresce dello 0,1 al 3,2, per l'Italia 1,8, altri partiti 5,4, astenuti 42,5. Grazie a tutti, arrivederci a presto.